100% di riduzione di queste cose qui. Ovviamente c'è da fare delle cose in più, c'è da portare, c'è da smistare, c'è da fare delle altre cose, le facciamo, c'è da dimostrare, lo dimostriamo, c'è da certificare, lo certifichiamo. Siamo pronti. Un'ottimissima domanda? Sì, scusami, il fornitore X, il fornitore X di Anni, lui avrà un marchio suo, lui mantiene un marchio suo e lo stesso prodotto quindi compare con due marchi, quello del fornitore. No, no, non compare con due marchi, compare con due marchi, quello che è nostro, lo spito qui è il fornitore. Il vostro, ma lui, tutta la sua produzione la dà a lei? No. Quindi ha una produzione all'infuore della sua che venderà con il marchio del suo, del membino Pico Parma, giusto? Esatto. Ecco, e chiaramente non lo venderà nei posti dove lo vende lei, lo venderà in altri negozi o supermercati, eccetera. Quindi, i pressi, rispondo che procediamo a questa è una domanda semplice, quando la vende fuori lo vende impacchettato, un chilo, cinque chili, cinque chili, rarissimo diciamo un chilo, mezzo chilo la pasta è mezzo chilo, un chilo, cinque chili. Lei ne vuole 200 grammi? Ne vuole un fischiotto? Lo posso dare? Quindi, diciamo, la differenza sulla quantità, che dicevo prima, noi non la vendiamo un fatto stato a mezzo chilo, un chilo, ne prende quello che vuole, quindi lì nasce il concetto dello scuso, ne vuole 10 chili. E quindi, finendo altro, se compro mezzo chilo delle pende del burino tipo in Copalda nel supermercato e lo pago un euro e mezzo, il mezzo chilo spurro che lo prendo da lei, quanto lo paga? Lo paga, la stessa pasta lo paga meno, perché diciamo la questione dell'impacchettamento che ha un posto, lo paga meno, sull'imbottigliamento questo lo tocca con mano, perché se ritorna con la sua bottiglia, quella bottiglia non la paga. E' fatta, perché invece se ritorno con la mia bottiglia le cose sono identiche, cioè mentre sulla pasta si era uno sfuso, non sono identiche, è sempre meno quello che non ha, il fornitore nel nostro caso non ha il posto dell'impacchettatura, dice lo scala, lui non ci dà il posto dell'impacchettatura, il nostro posto dell'impacchettatura è stato non industriale, è inferiore al posto dell'impacchettatura. Lei se deve in quotidiano, come fa? Che vuol dire? Che vuol dire se lo deve in quotidiano? La spina, forse? Che cosa vuol dire se lo deve in quotidiano? Cioè, se io vengo da lei e voglio trovare un pochino di terremiologio, non mi dà, se per esempio... Io le do e le faccio un momento, da un rinomano... Ci vuole una giornata di tempo? No, ci vuole una giornata di tempo. Quindi lei ha qualche all'ambiccio per il terro. Sì, sì, quelle che ha visto nella foto, ora va bene, ma lasciamo prima. Diciamo, sono dei semplici erogatori, dove c'è l'olio diviso in tre, ha dei semi automatismi con i quali... C'è un processo preciso, che è un processo, ovviamente, un segreto industriale, tra virgolette, perché non siamo più in industria, è un segreto, però diciamo, c'è un processo specifico che consente di fare questa operazione. Questa operazione è proprio dell'olio. Abbiamo avuto una marea di osservazioni, per cui hanno sempre preso la briga di fare delle cose anche più importanti. E ci hanno trovato tutti... La prima cosa, è la verdura... Sì, prima, finito, con la verdura. La verdura, come la si... Come la si propone... No, con la verdura, con il mare, con il vostro alimentare. Allora, diciamo, la verdura viene portata da un ricordatore, una cassetta che è installata, viene consegnata e anche lì ci viene aggiunto un'indicazione, che è quella dell'indicazione, che è quella dell'indicazione che avviene in tutta l'epicoltà. In alcuni casi è necessario, in alcuni casi non è necessario. No, l'abbiamo sempre fatta fin dal 2009, però si sta parlando della norma, che diceva, dovete dire... Sempre qua, c'è un software che abbiamo realizzato e che è quello che ci consente di oggi di sfondere questo modello, che è un software che ci consente di classificare il funitore, classificare l'otto, fare, diciamo, le scadenze dell'otto e quando arriva la cassetta in maniera semplice, che è la collegata del bilancio, che ha pensato la tara e anche perché gli stampa esattamente quelle delle cose, comunque è una meridione dall'allarme. Beh, ciao, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.